Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Brutto, bruttissimo Rimini, se Lombardia con la Ferrapi Salola sconfitta poteva starci considerando la differenza di organico, a dimora la sfida tra neopromosseri percorrendo il re-wind della scorsa stagione, sa tanto di quella gara quando allora il Rosso-Blu vinso addirittura per 5 reti a 2. Il 3-1 finale della domenica sera non ammette repliche, Rimini troppo brutto per essere dominato sul piano del gioco e delle occasioni. Al ventesimo, infatti, si vedono subito i padroni di casa pericolosi dal corne, dove Gargiulo di testa va vicinissimo al bersaglio, trovando la deviazione in corne della retroguardia bianco-rossa. Vantaggio rimandato in 10 minuti, quando Rossetti serve dalla sinistra la corrente Mosti, che trova la deviazione vincente per il vantaggio del Limolese. Il reprecci mostra appunto la deviazione sotto misura del giocatore in maglia rosso-blu. I limiti si vede al 39esimo, quando Simoncelli, servito in corsa sulla destra, lascia partire un tiro insidioso che non trova fortuna. Lighetti nella ripresa mischia le carte dentro Bandini e Cecconi, ma la padronanza territoriale rimane a favore del Limolese, che dalla distanza con Gargiulo reca grossi grattacapi a Scotti, salvatosi di istinto e di fortuna. Dalla bandierina all'estremo ospite si riscatta sfoderando un apparatone delle sue, ma l'arbitro successivamente ferma il gioco per un fallo in area di rigore. Al 65esimo Limolese previene il raddoppio, tutto troppo facile per la Nini. Trovare i gol della sicurezza, la difesa si apre come una cozza, la dimenticanza scaturisce appunto la rete. Il Tris è solo rimandato da questa discesa di candido che serve a dare speranza, invece dall'altra parte, su ripartenza, De Marchi si beve tutto il campo a tempo di fumarsi per fino l'erba, che indisturbato trova il Tris. 3-0 Limolese, è passivo pesantissimo per il Rimini, la cui risposta è affidata a Bomber Bonaventura, che con un tiro a giro trova il pallo alla sinistra di Rossi, mentre nel finale da calcio piazzato, e Bandini a scodellare questo pallone in mezzo laddove Cecconi rende meno amara la sconfitta. Mercoledì si torna in campo nel recupero contro la Ternana. Per Limolese, difficile trovare i migliori in campo, De Marchi in progressione devastante, un gol e un cross per lui, per il 2-0 di Lanini, per il Rimini salva l'onore forse candido, ma la prova della squadra è disastrosa. Dietro la lavagna mettiamo il tecnico Righetti, la difesa 3 improponibile, terzo gol lo dimostra a pieni titoli. Grazie. Grazie.